Si è conclusa con 22 sanzioni per un totale di 13.000 euro l'attività dei carabinieri forestali delle Marche che hanno controllato 80 aziende sul corretto utilizzo dei fitofarmaci in agricoltura. Le violazioni contestate riguardano l'utilizzo di sostanze chimiche in giornate ventose, l'assenza di tabelle di segnalazione, lo spandimento di prodotto all'interno di un centro abitato ma anche la vendita di fitofarmaci a chi non era abilitato all'utilizzo o era privo del registro dei trattamenti. I controlli hanno riguardato tutte le province marchigiane con cinque sanzioni elevate in provincia di Ancona, altre tante in provincia di Macerata, due in quella di Fermo e dieci sanzioni in provincia di Pesaro Urbino. I fitofarmaci, spiegano i militari, sono sostanze ammesse dalla legge e consentono il contenimento dei parassiti, il controllo delle specie infestanti e favoriscono i processi di manutenzione di frutta e verdura. Tuttavia, se utilizzati in modo sbagliato o illecito, possono cagionare gravi danni all'ambiente e alla salute umana. Molto dannosa poi è la distribuzione di insetticidi ed erbicidi nei pressi di aree abitate o sulla vegetazione spontanea in fioritura perché è in grado di uccidere migliaia di api ed altri insetti utili per l'equilibrio degli ecosistemi naturali. I carabinieri forestali hanno anche ipotizzato alcuni illeciti penali per la diffusione nell'ambiente di prodotti chimici con molestia dei residenti nelle zone limitrofe. Per questi reati sono ancora in corso le attività investigative.